Quello rappresentato oggi è la complessità del sistema sanitario e quindi la necessità proprio per le multifacce, medicina di base, attività ospedaliera, rapporti col paziente, eccetera, di immaginare ovviamente sistemi articolati e complessi di raccolta di informazioni in modo che possiamo con ciò assicurare la continuità del percorso del paziente all'interno del sistema sanitario nazionale e mettiamo nelle condizioni le strutture di offerte, siano essi pronti su corsi, siano essi attività di cura a livello acuto, ovviamente di disporre tutti i dati necessari per sviluppare una valutazione compiuta sul paziente, quindi efficienza ed efficacia coniugate.